Abbiamo visto la volta scorsa alcuni sistemi interpretabili, cioè in cui il moto è interpretabile utilizzando i principi della dinamica. Vediamo, abbiamo visto il moto sul piano inclinato, la forza centripeta, il moto del corpo posto alla forza elastica, quindi attaccato alla molla e il pendolo, più semplice. Tutto bene? Questo esercizio. In circa una probata di massa 55 kg, la massa della forza è di 55 kg, salta su un tapetto elastico che oscilla di modo armonico. Il periodo dell'oscillazione è di 2,3 secondi. Qual è la costante elastica del tappeto? Il tappeto si comporta come una molla. e il periodo dell'oscillazione, fatemi scrivere un poco meglio, il testo dice che è 2,3 secondi. La massa della fletta della robot è di 55 kg. Abbiamo visto la volta scorsa che il periodo di oscillazione della molla vale 2 pi greco per la radice di m fratto k. Ok? Quindi, m è 55 kg, k non la conosco, però ti la conosco in questa relazione, l'unica incognita è k. Quindi, inverto e abbiamo t su 2 pi greco alla seconda che vale m fratto k, quindi k vale m per 2 pi greco su t quadrato. quindi, m è di 55 kg per 2 pi greco fratto 2,3 secondi, frutto al quadrato. in questo caso. In questo caso riportiamo l'impida elettronica, allora, 55 per e il pi greco 2,3 410,5 di uto su metra 2 grammi su secondo al quadrato e newton su metra domande? se la massa fosse stata di 100 kg quale sarebbe stato il periodo? anzi, 110 se questo raggiungo io se uno un altro atleta quindi 210 kg quale sarebbe il periodo del tappeto elastico? cambiava? no c'è chi dice no c'è chi dice no c'è chi dice sì no aiuta sì 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 aiuta c'è chi dice sì di quanto? devo rifare tutto il calcolo? no perché M2 rispetto a M è il doppio quindi se il periodo con la massa di 75 è di 2,3 secondi raddoppio la massa siccome la massa è sotto radice il rapporto tra il nuovo T e il vecchio T è radice di 2 di conseguenza ho 2,3 per radice di 2 3,25 3,25 secondi non sai che ripare tutto in calcio si può anche fare certo è stata più veloce la massa sotto radice 2 volte la massa il K è lo stesso si è costruisco a T uguale a T certo altre domande? altro esercizio? quindi T2 uguale questo uguale a 2 volte M T2 è radice di 2 uguale a T 3,4 3,25 secondi. Altro esercizio, questo è un po' più succulento. Abbiamo un oggetto che segue una traiettoria circolare. Per farci vedere questa traiettoria, questo è collegato a un punto fisso da una molla. C'è la molla attaccata al soggetto e lui ruota. Il raggio della sua orbita, della sua traiettoria R, K la costante lastica della molla, M la massa dell'oggetto. Il problema ci dice che la distangola con cui sta ruotando, omega, vale 3,21 radianti al secondo. La massa del pesetto è 210 grammi e la costante lastica K della molla è 289 newton tratto metro. Inoltre, ci informa che il raggio della circonferenza, il raggio di trattoria R grande, è uguale a 38,1 centimetri. Qual è la lunghezza di riposo della molla? Quanto sarebbe lunga la molla se fosse ferma? la parola è la discussione. Allora, primo punto. M si muove su una circonferenza. Ogni volta che un aggio si muove su una circonferenza, c'entrano due cose molto imparentate tra di loro. la forza centripeta e l'accelerazione centripeta. Ok? Qui un primo punto. Dovrò giocare la carta accelerazione o forza centripeta. poi c'è un altro personaggio importante in questa storia che è la molla. Ogni volta che c'è una molla, a meno che non venga specificato altro, entra in gioco la forza elastica. Ok? Dopodiché... c'è un oggetto che si muove su una traiettoria circolare. Ok? necessariamente c'è una forza che lo costringe a fare un moto circolare, altrimenti andrebbe di moto rettiline uniforme. Ok. Quale forza in questo sistema lo costringe a percorrere una traiettoria circolare? Che cos'è che lo ottiene legato a traiettoria circolare? la molla. La molla. Quindi chi produce la forza centripeta? La molla, la forza elastica. La forza elastica qui gioca il ruolo di forza centripeta. Perché è quella che tiene l'oggetto sulla forza, sulla accelerazione, sulla traiettoria circolare. Ok? Per produrre la forza necessaria per la molla cosa fa? Si allunga. Quindi il raggio della circonferenza è la lunghezza della molla deformata. in modo tale che produca la forza che serve a far ruotare M sulla circonferenza quella lì. Ok? D'accordo? Quanta forza mi serve? Beh, me lo dice la forza centripeta. La forza centripeta sarà legata alla deformazione della molla, cioè la differenza tra la lunghezza della molla nella situazione in cui il corpo si muove e la lunghezza del poso. Cosa volevi chiedere? No, potuto se la molla si allungava il centro. Ma la molla? Per produrre una forza verso il centro deve allungarsi perché se si accorciasse produrrebbe una forza centrifuga. Sì, ok, però la molla è iniziale. Sì, certo. Sì, questo non oscilla, è una buona domanda. Se io lo metto un po' più largo, questo fa un attivatore che è un'oscillazione. Perché la molla cambia di inglese e invece sono situazioni stazionarie, cioè alla lunghezza di equilibrio, allora non c'è conferenza. È tutto chiaro? Quindi, la forza centripeta che è necessaria a mantenere l'oggetto sulla circonferenza sarà massa del sassolino attaccato per l'accelerazione centripeta. Ora, che cosa conosco del sistema? Conosco il raggio della circonferenza e la velocità angolare. Quindi mi conviene esprimere questa come omega seconda R, piuttosto che come V quadro su R, perché li conosco già tutti e due. Ma, primo punto. Secondo punto, la forza centripeta, chi le produce? La molla. Quindi questo è anche uguale a K volte. Lasciamo stare il meno, che dice solo che è una forza di richiamo. L'intensità della forza è K volte l'allungamento di delta L. Ma l'allungamento della molla, delta L, non è altro che la lunghezza attuale della molla, che è il raggio della circonferenza, almeno la lunghezza riposo. Quindi, prima trovo delta L e poi da qui mi trovo in zero. Ok? Non vedo molto retto il video, ecco qui. Quindi è uguale a 2, cioè M omega quadro R vale K volte detta L. La mia incognita è questa. Io ho bisogno di sapere detta L. Tutto il resto lo conosco. Quindi, l'allungamento della molla vale M omega seconda R su K. Per gli amici, la massa, 210 grammi, attenzione, va scritto in chilogrammi, 0,21 kg, per omega quadro, 3,21 radianti al secondo al quadrato, per R raggio 38,1 cm, va scritto in metri, 0,381 m. Quindi, diviso K, questo è già posto, ho scritto male, 289, giusto? Sì. 289 N su metro. Qui ho chilogrammi per metri diviso secondi al quadrato che fa? Che metà di misura sono chilogrammi per metri diviso secondi al quadrato? Newton. Newton, si semplificano, 1 su metri al denominatore fa metri al numeratore. 1 diviso 1 su metri fa metri, quindi le metà di misura funzionano. Facendo il calcolo, 0,21 per 3,21 alla seconda, per 0,381 diviso 289. 0,00285 metri, cioè circa 0,285 cm. Per davvero il raggio di centimetri. Ok? Di conseguenza, dato che da riposo, vale L0 uguale a R, il meno che Tg. Basta risolvere questo rispetto a L0. Porta L0 a sinistra del Tg a destra. 38,1 cm, meno 0,3 cm, viene 37,8 cm. Oppure 0,378 m. Ok? Qual è il periodo di questo moto? Quanto tempo impiega il sassetto a fare tutto il giro? Omega, 2 pi greco diviso T, T, 2 pi greco diviso Omega. Abbiamo Omega, che è 2 pi greco su T, il quale 2 pi greco su questa angolata, cioè 2 pi greco su, non ne ricordo più, 3,21. e viene circa, sarà un paio di spongi, grosso modo. Il greco è 3,14, diviso 3,21, poi c'è 2, sarà poco meno di 2. 2 per il greco diviso 3,2. 1,96 secondi. Ok? Qua davanti. Qua davanti. In un laboratorio situato sulla Luna, uno scienziato esegue un esperimento per misurare l'accelerazione di gravità. osserva le oscillazioni di un pendolo lungo L, 160 centimetri. e ne conta 35, 35 oscillazioni in 220 secondi. Quanto vale la gravità lunare? Sì, 35 oscillazioni in 220 secondi. È un buon sistema per misurare il G. C'è troppo G in questo modo? Sì, no, non so. Certo che sì. Non è più semplice, ma è efficace. Perché? Perché il periodo del pendolo è legato alla lunghezza del filo e anche alla selezione di gravità. T, periodo del pendolo, vale 2 pi greco radici quadrata di L fratto G. Sulla Luna avrò G lunare. Per me è 9,81 eccetera. Quindi la prima cosa da fare mi serve il periodo di una oscillazione. Questo T e di una oscillazione non sono 220 secondi. ne fa 35. Quindi il periodo T di una oscillazione vale 220 secondi diviso 35. Per gli amici 6,29 secondi. Quindi lavoriamo sulle oscillazioni del periodo. Troviamo GL G sulla Luna. Divido per 2 pi greco che è l'evole quadrato. Trovo L per fratto G. Quindi GL vale L per 2 pi greco fratto T tutta la seconda. Un po' di altra. Non fa mai male. Quindi 160 cm in metri 1,6 metri per parelto su 2 pi greco diviso 6,29 secondi al quadrato. l'evole quadrato. è un'isferazione centro meditale 1,6 quindi l'unità di G in gravità terrestri è circa il 16% Gt981 sulla luna la gravità è il 16% di quello che c'è sulla terra che è circa 1,6 quindi andata sulla luna è un'ottima prima grande è un'ottima prima grande questa è la viaggia questa è la voce 60 kg e lei c'è la 10 drammatica ma è piacissima tutto chiaro? e facciamo anche questo andata avanti abbiamo un piano un piano inclinato doppio il primo corpo uno quello a sinistra è sul piano inclinato che ha una golazione alfa 1 quello a destra ha una golazione alfa 2 le due masse sono M1 e M2 la gravità è quella solita non c'è dritto sui piani calcolate con quale accelerazione si muove questo oggetto considerando noti M1 M2 alfa 1 e alfa 2 quanto vale l'accelerazione? se c'è accelerazione ok? e il tradurio che c'era scusami non l'ho detto ma l'ho disegnato i due oggetti le due casse su due piani sono legate da un fido senza massa la massa è senza dritto c'è una fune clinica trascurate la massa della fune stessa e il fune è inestensibile cioè non cambia di lunghezza e non è elastica allora che cosa facciamo? bisogna ragionare sulle forze applicate a ciascuno i due oggetti cominciamo dal primo tanto è uguale M1 su M1 quante e quali forze agiscono? tre forze perfetto la prima più semplice è la forza peso la disegno qui P1 dopodiché siccome sta sul piano inclinato c'è la reazione vincolare R1 cosa è uscita? vedete questa è una R e infine la tensione del filo T1 corpo 2 molto simile T2 R2 T2 T2 U ok le tre forze sono in equilibrio potrebbero essere ma in generale non lo saranno non è detto che il sistema sia in equilibrio dipenderà dalle masse e dalle inclinazioni dei piani quindi presumo in generale che si muova cioè che si è sottoposto all'accelerazione prima considerazione da fare prima considerazione importante le due tensioni T1 e T2 come sono tra di loro? uguale chiamiamola T le due tensioni non possono essere diverse perché se lo fossero vorrebbe dire che il filo si allunga o si accorcia supponete di avere un filo la cosa mi metto nel filo dove sta il mio filo a riposo se da una parte tiro più che dall'altra supposto che il centro sia fermo il filo cambia e diminuisce mentre se il filo è inestensibile questo non deve non può accadere ok e quindi equivalentemente di tanto si sposta il primo corpo di tanto scende l'altro se lungo il piano inclinato il corpo 1 sale di un centimetro lungo il piano il piano inclinato il corpo 2 scende di un centimetro perché la lunghezza del filo è sempre la stessa questo è importante poi andiamo a focalizzarci sul primo oggetto dall'infinato di sinistra lo ridisegno corpo numero 1 P1 che volta chiamano tensione T ed L la forza risultante sul corpo 1 sarà secondo il principio della dinamica la somma di tutte le forze la risultante è la somma delle forze però andiamo a vedere di scomporre perché la risultante avrà componente solo lungo il piano inclinato visto che il corpo scivola solo lungo E quindi questa equazione la scomporremo in due parti parallele al piano e perpendicolare al piano inoltre prendiamo come verso positivo quello a salire lungo il primo piano per convenzione non c'è no motivo ho due scelte attenzione se il mio verso positivo è quello lungo si sale sul primo si scende sul secondo ok deve essere coerente allora perpendicolarmente al piano inclinato 1 ho due forze R1 e la parte di P perpendicolare al piano quindi R1 deve essere uguale a P1 perpendicolare non sono altri componenti quindi vale il peso del primo corpo per il coseno dell'inclinazione del primo piano P1 per il coseno di alfa 1 e questo mi dà la reazione endicolare del primo piano lungo il piano numero 1 per mettere il piano ho la risultante quindi è L1 A1 che vale il verso positivo positivo è a salire quindi ho T col segno più meno la parte del peso parallela al piano T meno P1 per il seno di alfa 1 la parte di P parallela al piano è peso per il seno dell'inclinazione ok quindi il mio sistema mi dice che la massa 1 vale T meno P1 senza alfa 1 ma nel corpo 2 la situazione è identica solamente che in questo caso il corpo più basso positivo è a scendere quindi qui ho P2 parallelo e T che va dall'altra parola quindi per il corpo 2 ho M2 A2 che vale P2 parallelo meno T perché la direzione positiva è verso il basso ok non solo ma come ho detto pochi istanti fa l'accelerazione del primo corpo rispetto a quella del secondo in che rapporto sta lo spostamento del primo qualunque esso sia siccome l'inglese del filo è costante se il primo corpo si sposta di delta x1 di tanto si sposta il secondo non può cambiare se no il filo cambierebbe di lunghezza ma se gli spostamenti sono identici lo sono anche le velocità e lo sono anche le accelerazioni v1 uguale a v2 a1 uguale a 2 i due corpi accelerano nello stesso modo quindi in queste equazioni in realtà qui questo simbolo indica la stessa cosa ho un'unica incognita e questo mi è di grande aiuto perché per il primo corpo posso scrivere m1a che vale pi meno pi 1 sen alfa 1 per il secondo corpo ho m2a che vale pi 2 sen alfa 2 meno t qui la t nel 2 è la stessa posso risolvere il primo rispetto a t per esempio e poi sostituire pi vale m1a più p1 sen alfa 1 e quindi m2a vale p2 p2 sen alfa 2 meno m1a più più 1 sen alfa 1 ho sostituito t nella seconda equazione tolgo le parentesi e al posto dei pensi metto m2 per g m1 per g m2a è uguale a m2g sen alfa 2 meno m1a meno m1g sen alfa 1 e adesso è sufficiente che sposto m1a a sinistra e divido tutto per la somma delle masse e ottengo m1a più m2a che vale m2g sen alfa 2 meno m1g sen alfa 1 quindi l'accelerazione a uguale tra quadruna g m2 sen alfa 2 meno m1 sen alfa 1 su m1 più m2a l'accelerazione mi dà in generale l'accelerazione del sistema qualunque siano m1 m2 alfa 1 alfa 2 o l'accelerazione del sistema il sistema è in equilibrio attenzione a è 0 se e solo se il numeratore è 0 il denominatore non può essere 0 la somma di masse se m2 sen alfa 2 è uguale a m1 sen alfa 1 cioè se il prodotto massa per il seno dell'accelerazione del piano è lo stesso in entrambi i piani inclinati in quel caso se quindi per esempio ho il valore delle due inclinazioni alfa 1 alfa 2 e il valore di una massa posso trovare l'altra massa da mettere sul piano inclinato in m2 in modo tale che sia in equilibrio da questa relazione m2 vale m1 per sen alfa 1 diviso sen alfa 2 questo è la nostra campagna è una è un'altra un'altra di un'altra di un'altra Grazie a tutti.